Porta il nome del maestro Orazio Goldini la nuova biblioteca della scuola primaria Enrico Solito di Gela, diretta da Clizia Nobile. L'intitolazione è avvenuta questa mattina. Orazio Goldini, scomparso un anno e mezzo addietro, ha insegnato in quella scuola per tutto il tempo della sua carriera, lasciando un ricordo indelebile nei suoi alunni. Tutto nasce dall'iniziativa di una classe particolare, quella formata dagli ex alunni del quinquennio 1964-1969, che hanno avuto l'onore di avere come guida il maestro Goldini, i quali al momento della scomparsa hanno ritenuto più opportuno, al posto di comprare un mazzo di fiori, di regalare ciascuno di loro un libro alla scuola primaria che avevano frequentato più di 50 anni fa. Maestro di vita, maestro che ha lasciato sicuramente una traccia negli animi, nella mente dei suoi alunni e che adesso si incontrano dopo tanti anni, hanno fatto questa richiesta per poter dedicare, chiamiamola biblioteca, una sala lettura, a questo personaggio che sicuramente è stato tanto amato nonostante gli anni siano passati. Avere una biblioteca o a un punto dove poter attingere dei libri credo sia estremamente importante. La cosa particolare è che è stata voluta in realtà dagli ex alunni di questa scuola. Dopo tanti anni hanno voluto portare, nascere questa biblioteca portando i libri personalmente per poter continuare anche dopo anni a dare un contributo dove si sono formati. E questo credo che sia un pensiero che bisogna sottolineare. Durante l'iniziativa di oggi hanno espresso il loro pensiero Maria Concetta Goldini, figlia di Orazio e per gli ex alunni Cristoforo Cocchiana. Un momento significativo per me e per la mia famiglia perché una biblioteca è un luogo in cui mio padre ha speso gran parte della sua attività lavorativa, cosa in cui credeva moltissimo e viveva come una missione. E' veramente bello. Bello sapere che c'è una parte di lui che rivive ancora in questo luogo. Ma è un'occasione importante per una città che vede aprire in una scuola una biblioteca. Laddove c'è il libro c'è sempre vita, c'è sempre gioia. E' sicuramente un futuro diverso. Il libro non porta a barbarie, porta sicuramente a civiltà. La nascita di una biblioteca è un evento culturale importante per il mondo scolastico ma per la cittadinanza tutta. Ed è una cosa molto significativa averla intitolata al nostro maestro Goldini che è stato per noi un maestro oltre che di scuola anche un maestro di vita.